Di cosa tratta l'iniziativa per l'attuazione? Alla fine del 2010, il popolo svizzero ha accettato la cosiddetta iniziativa espulsione, secondo la quale gli stranieri, che sono condannati per determinati reati, devono lasciare la Svizzera. Nel marzo del 2015, il Parlamento ha stabilito le leggi necessarie. Secondo queste nuove leggi, gli stranieri devono lasciare la Svizzera soprattutto nel momento in cui hanno commesso crimini sessuali e crimini che comportano l'uccisione, il ferimento grave o la messa in pericolo di esseri umani. In casi eccezionali, per esempio se la persona è nata e cresciuta in Svizzera, il Tribunale può rinunciare all'espulsione. Cosa cambierebbe? Se l'iniziativa per l'attuazione viene accettata, essa disciplina in dettaglio come l'iniziativa per l'espulsione deve essere attuata. Gli stranieri che sono condannati per determinati reati vengono sempre espulsi automaticamente dalla Svizzera. Questo a prescindere dalla gravità del reato, dall'entità della pena e da altre circostanze personali. Se la persona nei dieci anni precedenti è già stata condannata, può essere espulsa anche per reati poco gravi. Anche in tal caso, le circostanze personali, la gravità del reato o l'entità della pena, non sono presi in considerazione. Se gli stranieri nei loro paesi d'origine sono perseguitati o rischiano la tortura, l'espulsione può essere rimandata soltanto temporaneamente. L'iniziativa prevede che tali disposizioni prevalgano sul diritto internazionale non vincolante. Quali sono gli argomenti dei sostenitori? Con l'iniziativa per l'attuazione aumenterebbe la sicurezza nella Svizzera, poiché i criminali stranieri verrebbero in ogni modo espulsi. L'iniziativa per l'attuazione metterebbe finalmente in atto la volontà popolare espressa nel 2010. Il Parlamento non potrà più attenuarla. Quali sono gli argomenti degli oppositori? L'iniziativa mette in pericolo gli accordi internazionali, quali ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, delle conquiste che non si possono mettere a rischio. L'iniziativa per l'attuazione aggira il lavoro del Parlamento e limita le competenze decisionali dei giudici, violando così la separazione dei poteri. Se vuoi accettare l'iniziativa per l'attuazione, vota sì. Se vuoi respingerla, vota no. Svizzera per l'attuazione, vota sì.